Sorriso, no? Eh sì, esatto, è un argomento divertente, ma d'altronde è una giornata comunque pesante oggi, quindi non è che possiamo essere da meno. Ok. Eh, poi l'argomento è quello che è. Allora, dico un attimo, no, perché ha detto che ci abbiamo messo troppo tempo. Allora, rifaccio, ricreo il broadcast, intanto ci metto un minuto, e ti giro il link, ok? Ah, ci devi rigirare un nuovo link? Ti giro un nuovo link perché mi ha messo questa cosa qua. Ok, allora ve lo giro io via mail. Un minuto, faccio. Ok, scusate se ho fatto tardi. No, 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 il problema è che io prima volta conosco sto programma e quindi bisogna capire come funziona. Arrivo su... Ok. Ok.